A noi non va l'idea che sta facendo correre lui, che è bello un mondo dove le tasse non si pagano, tranne naturalmente i poverazzi e qualche pirla che è costretto, è bello un mondo dove non ci sono processi tranne per i marocchini, è bello un mondo dove non c'è limite di velocità tranne per le macchine piccole, noi dobbiamo essere l'altra parte. E quindi partito del lavoro, partito delle riforme, contro le leggi a persona, partito della riscossa civica. E tenere su questo una barra, l'ideare, solida, organizzarci, radicarci, riprendere il contatto competente con le forze economiche, sociali, con i cittadini, tenere i rapporti con tutti quelli che mal sopportano questo sistema, fare del Partito Democratico il tessitore di un'alternativa. Questo è il compito che abbiamo noi, essere il tessitore di un'alternativa, perché questo bisogna mandarlo a casa sul serio, che è un problema, mandarlo a casa sul serio, costruire l'alternativa. Grazie a tutti.